È un premio che io penso sia un premio a tutti i cittadini che ci seguono. È un premio per la fedeltà al lavoro, ma io dico un premio per la fedeltà al territorio. Abbiamo dimostrato, non noi, ma tutti quelli che lavorano a Media Nord-Est, dal direttore a tutti i giornalisti, a tutti i tecnici, di essere a servizio di un territorio. E quindi di essere una televisione che dedica tutta se stessa al legame col territorio, all'informazione, all'approfondimento, all'informazione autorevole e seria. E quindi un premio che noi accogliamo con grandissima soddisfazione perché testimonia che lo sforzo che abbiamo fatto anche durante la pandemia di non fare cassa integrazione, di puntare tutto sull'informazione, di fare più di 18 ore al giorno di diretta, ma che prima avevamo fatto con la tempesta Valle, avevamo fatto con l'acqua grande di Venezia, avevamo fatto con la grande alluvione. Quindi essere sul territorio, essere vicini al territorio nei momenti di crisi e rappresentare poi anche i momenti importanti per il territorio, quindi le Olimpiadi, le varie territori segnati dall'UNESCO. Quindi sostanzialmente essere la rappresentazione del successo di un Veneto che vuole essere un'eccellenza nazionale. Questo è servizio pubblico? Questo è servizio pubblico, questo è servizio pubblico se vogliamo, servizio di interesse pubblico, quindi assolutamente è un tema che sta alla radice poi anche della democrazia, il difendere un'informazione locale di qualità. Difenderla perché sostanzialmente i costi dell'informazione sono costi che hanno una ricaduta sociale e l'avere voci che riescono a informare seriamente e costantemente i cittadini io penso sia una questione di vitalità democratica e di presidio veramente dei diritti costituzionali di tutti i nostri telespettatori.